Le risultanze processuali passate in rassegna non hanno dimostrato che il Tallini sapesse del contesto criminale di appartenenza dello Scozza Fava e del suo rapporto di intranietà con il Grande Aracri. E non ci sono elementi univoci in grado di dimostrare una certa consapevolezza da parte dell'ex assessore regionale ed ex Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini circa il possibile collegamento della cosca Grande Aracri di Cutro tra le persone che incontrava per discutere di voti, compreso il suo factotum Domenico Scozza Fava e il progetto del consorzio farmaceutico riconducibile al clan. Si conoscono i motivi per cui, nel febbraio scorso, il politico catanzarese è stato assolto da accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso. E' il dato che più balza all'attenzione fra le 14 condanne e le 6 assoluzioni disposte dal gruppo distrettuale di Catanzaro Barbara Sacca a conclusione del primo grado del processo scaturito dall'inchiesta che nel novembre 2020 portò all'operazione Pharma Business con cui la DDA guidata dal procuratore Nicola Gratteri riteneva di aver dimostrato che il clan sarebbe stato in grado di infiltrarsi in maniera sofisticata nel redditizio mercato farmaceutico grazie all'appoggio di Tallini ai tempi in cui era assessore regionale al personale. Per lui il fatto non sussiste, ha sentenziato il GUP a fronte di una richiesta di condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione formulata dal PM antimafia Domenico Guarascio.